Lascia scorrere il pallone Nani, immobile per Nani, il pallone di ritorno Nani in area finta, Nani col sinistro! 5-1 Lazio e arriva anche il gol, il primo in Italia per Nani che ha la sua quarta presenza in Serie A. Ecco proprio Lukaku che purge il tiro e la palla in rete, il gol del 5-1 e il gol di Nani, l'assist di Lukaku, il gol di Nani, la panchina della Lazio, confeziona il gol del 5-1. Il contatto con Nui Tink, l'arbitro concede il vantaggio perché c'è Philippe Anderson in possesso, superato Danilo, ingresso in area Philippe Anderson, l'assist per Nani! Il raddoppio della Lazio, loro due!